Le luci d'azione per la morte per Legionella, la fornita e il servizio igiene della Asla. La riforma della geografia giudiziaria, incontro ad Avezzano con la senatrice Chiavaroli. Elfandri lascia Confindustria, cambiamenti nella missione aziendale alla base della decisione. Calcio vittoria ad Avezzano nella gara di recupero, allo stadio De Marsi ha battuto il Giulianova per 2 a 0. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Dunque sulla morte prematura del promotore finanziario Corrado Lucci di Avezzano, il servizio igiene Asla intende ricostruire le attività degli ultimi 10 giorni dell'uomo e risalire quindi al luogo dell'infezione. Il servizio igiene e sanità pubblica della Asla ha avviato tutte le procedure epidemiologiche già da sabato scorso, giorno in cui è stato segnalato il caso di Legionella dall'ospedale di Avezzano, dove l'uomo di 55 anni era stato ricoverato e dove è morto lunedì scorso. Si sta cercando di ricostruire, dichiarano i medici della Asla, il percorso dell'uomo segnatamente gli ultimi 10 giorni, in termini di attività, eventuali spostamenti, soggiorni, luoghi diversi della propria abitazione, eventuali permanenze in alberghi e altri supposti spostamenti. Un'indagine prosegue il servizio igiene che servirà ad acquisire elementi di valutazione per individuare la fonte e quindi il luogo in cui l'uomo ha contratto la legionella. Una volta localizzata la fonte di infezione, aggiunge il servizio igiene, la procedura prevede che l'Asla faccia la segnalazione all'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, alla quale si fette il compito di effettuare i prelievi sul posto in cui si è sviluppata la legionella. Tanto difezione da legionella non si trasmette da persona a persona ma si trasmette all'uomo attraverso aerosol originati ad esempio da umidificatori, impianti idrosanitari, impianti di condizionamento dell'aria. Il batterio infatti si riproduce soprattutto in ambienti umidi e tiepidi o riscaldati, come sistemi di tubature, i condensatori, le colonne di raffreddamento dell'acqua, sui quali forma un film batterico. La senatrice Federica Chiavaroli domani pomeriggio sarà ad Avezzano per partecipare alla tavola rotonda, riforma della geografia giudiziaria nella sala convegni dell'Arsa di Avezzano. L'incontro voluto e organizzato da Aega, associazione italiana giovani avvocati, animerà il dibattito su una delicata riforma che tra i suoi effetti produce l'accorpamento dei tribunali minori a quelli di maggiore importanza, tra questi quello di Avezzano. L'evento ha lo scopo di conoscere e valutare gli effetti positivi e negativi prodotti sul sistema giudiziario. Interverranno oltre al sottosegretario al Ministero della Giustizia Chiavaroli, il Presidente nazionale Aega, Michele Vaira, gli avvocati Mirella Cazialo, Maurizio Buccarella e Francesco Logriecco. I giovani avvocati marsicani hanno manifestato la loro soddisfazione per la disponibilità accordata a questa importante occasione di riflessione e confronto, auspicando che risposte effettive sul futuro dei tribunali e della Corte d'Appello d'Abruzzo arriveranno dalla sintesi di un dibattito di crescente interesse su un tema particolarmente delicato che stimolerà di organi governativi competenti ad una più efficiente ridefinizione dell'assetto degli uffici di primo grado. L'evento non mancherà di riaccendere la speranza, seppur flebile, sul necessario ripensamento delle iniqua riforme sulle sorti del Tribunale di Avezzano. Una risposta concreta alle tanto sollecitazioni fatte in questi ultimi mesi è il commento del sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio alla notizia del potenziamento dell'unità operativa di neurochirurgia quando arriva di un nuovo dirigente medico classificato al terzo posto della graduatoria come spiegato dall'apposita delibera pubblicata nell'albo peritorio del sito web dell'azienda sanitaria locale. è un importante segnale per il nostro territorio e la dimostrazione è che le richieste e gli incontri fatti hanno trovato interlocutori in grado di comprendere i reali bisogni dei cittadini e che la buona politica, quella che sa dialogare a più livelli può lavorare in sinergia per raggiungere obiettivi in grado di migliorare le vite di tutti. Una grande soddisfazione che arriva anche a margine dell'incontro con il nuovo manager dell'ASL, Rinaldo Tordera, e che siamo fiduciosi rappresenta l'inizio di una fattiva collaborazione nell'interesse dei cittadini. Per l'ospedale di Avezzano, la terza unità al riparto di neurochirurgia vuol dire che le oltre 2.600 consulenze interne e ambulatoriali e più di 200 ricoveri ospedalieri, seguiti da circa 100 interventi chirurgici potranno vedersi di un'ulteriore determinante professionalità a servizio della collettività e di ausilio a quelli presenti che stanno portando avanti con grande dedizione e un riparto particolarmente impegnativo. La Elfandry ha lasciato Confindustria, la più grande impresa della provincia dell'Aquila nata dalla trasformazione della Micron che conta circa 1.600 dipendenti sbatte la porta con una lettera di fuoco e vertici provinciali della Confederazione Un fatto che conferma le difficoltà di gestione dell'associazione indebolita da abbandoni eccellenti ma anche dal calo di scritti dovuto ai fallimenti di diverse imprese Ma l'addio dell'ex Micron spiegato nella lettera apre una fronte preoccupante I recenti cambiamenti intercorsi nella nostra visione e missione aziendale ci portano ad avere sempre maggiore necessità di autonomia di pensiero e di movimento rispetto a come qua adesso aspettabili l'associazione si è mossa recentemente ai suoi vari livelli scrive l'amministratore delegato Sergio Galbiati al Consiglio Direttivo di Confindustria e al direttore Carlo Imperatore Galbiati protagonista della trasformazione societaria del Colosso con sede ad Avezzano attraverso la Costituzione della Marsic Innovation Technology che nel 2013 ha stretto accordi con la tedesca Alfangri per mantenere in piedi una delle maggiori fonti di occupazione della provincia comunica recesso dall'associazione ad effetto immediato La decisione assunta già dicembre ma naturalmente mantenuta riservata è stata anche oggetto di una riunione del Consiglio Direttivo di Confindustria L'Aquila organizzazione guidata da Marco Fracassi e di cui Galbiati è persino vicepresidente Il dissenso della società è evidentemente rivolto alla Confindustria nazionale ma anche a quelle regionali e provinciali attraversate da lotte in testina che nel corso degli ultimi anni ha nominato la forza di cui l'associazione degli industriali godeva in passato Un declino iniziato con la fragorosa denuncia nel luglio 2014 sulla gestione personalistica dei Quick Impact Projects gli interventi di microfinanza a fondo perduto per un totale di 410.000 euro dedicate a nuove iniziative imprenditoriali nel cratere sismico Le presunte anomalie consistettero nell'assegnazione dei finanziamenti a persone che ricoprono ruoli di vertice dirigenziale all'interno di Confindustria comunque parenti o strettamente legati a questi ultimi In merito alla conferenza dei servizi convocata per domani, 31 marzo relativa alla richiesta di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomassa della potenza di 30 MW e da fotovoltaico della potenza di 300 KW da obbligarsi nel comune di Avezzano da parte della PowerCrot il sottosegretario della presidenza della regione Mario Mazzocca rende noto che allo scopo di consentire a tutti i soggetti coinvolti il giusto approfondimento delle tematiche da trattare anche alla luce dei contenuti dell'atto di indirizzo della giunta regionale il 22 marzo scorso tenendo conto delle richieste in tal senso pervenute da parte di alcuni dei di enti coinvolti nel procedimento la regione Abruzzo è ritenuto opportuno rinviare la suddetta conferenza al prossimo giovedì 21 aprile Un albero per ogni nato aderendo a questa iniziativa l'amministrazione comunale di Avezzano ha provveduto a mettere a dimora 381 alberi in pratica uno o ogni bambino nato nel corso del 2014 a riguardo un nostro servizio vediamo Questa mattina nell'area verde di via Filippo Turati di Avezzano si è svolta la manifestazione con l'assessore Daniele Sati in merito all'iniziativa Un albero per ogni nato sono stati messi a dimora 381 alberi in riferimento ai bambini nati nel 2014 che sono stati appunto 381 La novità di quest'anno fortemente valuta dall'assessore Stati e dal presidente della commissione consigliare ambiente Ignazio Iucci è la possibilità da parte dei genitori dei bambini di presentare richiesta di adozione di un albero che il comune identificherà con il nome del bambino Per la cronaca la maggior parte degli alberi sono stati messi a dimora nella zona di Lapineta mentre i restanti in altre aree verdi della cittadina Con questa iniziativa l'amministrazione comunale continua ad aderire con convinzione ad una specifica disposizione dello Stato voluta dall'allora responsabile Francesco Rutelli Siamo stati in via Filippo Turati ed abbiamo intervistato l'assessore degli arrestati Ignazio Iucci ed il responsabile del centro giuridico del cittadino Augusto Di Bassiano Allora siamo con l'assessore degli arrestati stanno mettendo a dimora delle piante il cui Avezzano mi sembra che sia uno dei pochi in Italia a rispettare aderire ad una legge dello Stato Sì è una legge nazionale purtroppo delle volte si è presi da altre incombenze importanti e vengono però poco prese in considerazione quelle che sono le belle attività si parla così tanto di sostenibilità di verde di ambiente di portare i ragazzi di riavvicinarli a quella che è la cura del verde e noi l'abbiamo fatto aggiungendo però una cosa in più quest'anno noi vogliamo diciamo che i nati del 2014 e se i nati del 2014 saranno pochini lo diciamo a tutti i bambini di adottare un albero è a titolo gratuito non ci sono oneri di spesa è soltanto l'impegno del bambino la cura la sensibilità di venire a guardare l'alberello a metterci l'acqua un po' di concime a viverlo insieme alla famiglia magari un bel momento quella mezz'ora della domenica che può aiutare anche le famiglie a vivere in serenità in questo periodo un po' difficile della vita di tutti oltre le 300 piante significa che poi il tema della natività del anno è abbastanza sentito il tema della natività è sentito però io sono sicura che adesso le famiglie che hanno dei bambini troveranno piacere a voler partecipare in questa attività perché significa di avvicinarsi tutti insieme a quella che è sia la famiglia ma a quello che è l'ambiente la cura per l'ambiente la sensibilità noi siamo soltanto dispiaciuti di aver dovuto fare questa cosa un pochettino di corsa non ben organizzata per avvertire tutta la popolazione ma sicuramente rimane attiva la possibilità di adottare un albero io mi auguro che non bastino così ne adotteremo un albero un'aiola un fiore l'importante è esserci per quanto riguarda l'inizio del comune è veramente incomiabile però mi sembra che ci sono anche associazioni che vi danno una mano ci sono tutte le associazioni innanzitutto devo ringraziare Agusto Di Bastiano poi vorrei far avvicinare a fianco a me il presidente Ignazio Iucci della commissione ambiente che mi dà sempre una mano c'è il WWF ci sono tutti quanti sono stati tutti quanti d'accordo e insieme faremo grandi progetti che vedranno come attori principali le scuole primarie secondarie ma soprattutto le famiglie intendo che ci fai qua non è che stai lavorando Agusto Di Bastiano oltre a dare fastidio all'amministrazione si costituisce anche e devo dire soltanto una cosa che è un paio di mesi che con Daniela Stati Massimo De Sante e con Luci inizia a funzionare qualche cosa nel senso si sta creando la squadra non funziona si sta creando la squadra legata all'ambiente a me sembra che poi il centro giuridico è sempre un po' critico invece in questo caso l'amministrazione ha ricepito no no non ha ricepito sono stati loro che hanno preso la palla boa dal balzo per fare una programmazione sull'ambiente e la novità che ha capito Daniela quest'anno Daniela e anche Luci è che ogni anno è vero si mettono le piante all'interno del pianeta in campagna però verrà attrezzato ogni spazio cittadino questo è il primo quello di fronte alla settimana prossima per cui avremo uno o due spazi in città da utilizzare e da attrezzare se ci saranno i soldini qualche panchina altre cose e via insomma un motivo di soddisfazione per l'amministrazione un motivo che ci spinge ad andare avanti noi abbiamo la necessità di curare le nostre aree verdi in particolare la pineta che è un punto di raccolta di tante persone di Avezzano dalle più piccole con il parco giochi dalle persone che vogliono rilassarsi dalle persone che fanno sport siccome la pineta è un polmone verde ma è monospecie cioè principalmente ci sono i pini chiaramente avendo poche varietà è esposta alle malattie e già negli anni scorsi sono stati tanti pini che sono andati in malora cosa di processionale mi sembra che è iniziato è iniziato è iniziato il trattamento però la pineta è necessario farlo diventare un bosco multispecie e questa è una di quelle iniziative che può concorrere in questo modo se riusciamo ad unire la famiglia del nato l'albero riusciamo a dargli quel minimo di cura iniziale che porta l'albero ad attecchire e a svilupparsi se magari fra vent'anni quando questi ragazzi sono dei giovani e vanno a corra alla pineta vorranno dire a corso in mezzo ai miei alberi quindi è un'iniziativa lodevole ringraziamo il centro giuridico del cittadino perché è uno stimolo a farlo sempre meglio un'interrogazione all'assessore Paolucci per capire quale sia la situazione del servizio trasporti in favore dei malati oncologici ad annunciarlo il capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale Pietro Smargiassi se la notizia persa nei giornali di oggi in merito all'inesima sospensione del servizio trasporti per i malati oncologici fosse confermata commenta Smargiassi ci chiediamo a cosa siano serviti gli impegni assunti dalla Giunta nel merito della risoluzione votata in consiglio pochi mesi or sono e a cosa servano altresì le sedute della commissione di vigilanza particolare quella tenutesi nel dicembre scorso dove fu chiarito all'allora direttore della ASL Lanciano Vasto Chieti Flacco la necessità che un servizio così importante quale quello del trasporto dei malati oncologici non fosse sospeso a cosa servono sostanze i nostri sforzi quelli in miede di altri consiglieri che si sono occupati della vicenda volti ad una sanità più giusta e maggiormente attenta ai bisogni dei più deboli se poi ciclicamente ci si trova a dover combattere con gli stessi problemi del passato ho deciso pertanto di interrogare l'assessore Paolucci e il commissario D'Alfonso per capire le ragioni di questo nuovo stop che sarebbe stato nuovamente imposto al servizio di trasporto dei malati oncologici quelli stessi malati che evidentemente continuano a non essere tra le priorità della sanità regionale in considerazione della crisi che colpisce significativamente l'Abruzzo dell'aumento della disoccupazione nel territorio il CESCOT di Sulmona d'intesa con i responsabili scientifico ha deciso di riservare agli studenti universitari ed ai disoccupati il 20% di sconto sulla quota di iscrizione al corso abilitante per amministratori di condominio l'attività di amministratori di condominio e un'opportunità per un reale lavoro che sono professionisti qualificati possono intraprendere per questo il CESCOT di Sulmona ha tenuto conto dell'entrata in vigore della legge 220-2012 e con l'attuazione del decreto del Ministero della Giustizia ha progettato una tipologia di corso abilitante utile a facilitare l'approccio alla problematica e l'accesso alla professione tenendo conto della complessità della materia inerente di amministratori di condominio al CESCOT di Sulmona intende fornire agli interessati un'alta professionalità capace di gestire le azioni informative e di facilitare l'interesse per la didattica teorico-pratica il corso abilitante di una durata di 72 ore si tratta dal 19 aprile al 28 giugno dell'anno corrente il titolo di studio minimo per l'accesso al corso al diploma di scuola secondaria e superiore riformazione sui costi sui programmi e iscrizioni ci si può rivolgere al CESCOT officina dei sapori di Sulmona ed a tutte le sedi della confesercenti Vincenzo Boccia il candidato alla presidenza di Confindustria nazionale scelto da Confindustria Abruzzo la decisione è stata assunta nel corso di una riunione del direttivo di Confindustria Abruzzo riunitosi oggi a Pescara risieduto dal presidente di Confindustria Abruzzo Agostino Ballone e partecipato dai massimi vertici regionali dell'organizzazione la preferenza per Vincenzo Boccia è stata assunta dopo un ampio approfondito dibattito che ha avuto ad oggetto programmi e curricula dei due candidati attualmente in corsa alla presidenza nazionale della più importante organizzazione imprenditoriale italiana Vincenzo Boccia già presidente nazionale della piccola industria e attualmente presidente del comitato tecnico credito e finanza di Confindustria ha infatti prevalso nelle preferenze dei vertici regionali di Confindustria Abruzzo rispetto ad Alberto Bacchi presidente di Unindustria Bologna l'altro contendente alla prestigiosa carica nazionale proprio per poter prevenire ad una scelta ponderata nei giorni scorsi Confindustria Abruzzo aveva promosso due incontri aperti alla base associativa abruzzese in cui due candidati concorrenti avevano potuto presentarsi illustrare i loro programmi e rispondere alle domande degli imprenditori presenti sempre nei giorni scorsi a livello territoriale si sono tenute apposite assemblee partecipate dalla base associativa eppure conoscendo ad ambe due i candidati più che apprezzabili doti e competenze imprenditoriali associative e umane ma anche la determinazione il programma e l'esperienza associativa di Vincenzo Boccia hanno convinto maggiormente la rappresentanza di Confindustria Abruzzo che esprimerà così la sua preferenza nell'ambito degli organismi nazionali Consiglio Generale e Assemblea che andranno ad eleggere il nuovo presidente appunto di Confindustria ed ora il calcio la Juventus batte 3 a 2 il Palermo nella finalissima della Via Reggio Cup e conquista l'importante trofeo calcistico giovanile per la nona volta nella sua storia a 4 anni dall'ultimo trionfo datato 2012 decisivo ai fini della vittoria rigore messo segno dal giovane Alessio Di Massimo nel finale di Match Penalty che si è conquistato e realizzato spiazzando il portiere dei Rosanero Di Massimo dopo aver cominciato la stagione nelle file della Vezzano in Serie D è stato ingaggiato a gennaio dalla Vecchia Signora e con una serie di convincenti prestazioni sta continuando la sua scalata al calcio che conta allenato da un mister legato a doppio filo con l'Abruzzo come Fabio Grosso a Xchietti e cresciuto nel Renato Curi Pescara Ed ora passiamo al calcio Serie D vittoriasca c'è crisi della Vezzano oggi allo stadio De Marsi nella gara di recupero del campionato contro il Giulia Nova i biancoverdi contro un avversario che ha chiuso la gara e nove uomini hanno vinto meritatamente per 2 a 0 vediamo a riguardo il servizio della nostra redazione sportiva più della prestazione per la Vezzano erano importanti i tre punti e da questa angolazione si può dire che l'obiettivo è stato centrato pienamente una rete per tempo e la classifica dei biancoverdi si fa meno pericolosa ma come diranno allenatore e presidente negli sfogliatoi la prestazione non è stata all'altezza di precedenti esibizioni quella col Matelica in particolare il Giulia Nova che di problemi ne ha ancora di più ha fatto quanto era nelle proprie possibilità ma ha pagato a caro prezzo i numerosi errori commessi nel corso della partita la Vezzano parte in quarta e costringe i giallorossi costantemente sulla difensiva tre minuti e Bisegna sfiora il vantaggio sul calcio di punizione è bravissimo Proietti che vola all'incrocio e smanaccia sul fondo ancora un angolo per i marsicani e sulla battuta di Bisegna è l'avanzato Menna a sfiorare il bersaglio con questo colpo di testa poi ci provano anche gli ospiti ma il tentativo di Pellecchia è abbastanza velleitario e la sfera si perde abbondantemente alta sopra la traversa 5 minuti dopo la Vezzano passa in vantaggio sfruttando una dormita della difesa che lascia di Genova libero di ricevere da Bisegna stoppare guardare negli occhi Proietti e batterlo imparabilmente giuliesi giuliesi che accusano il colpo e in chiusura di tempo Bisegna prova ad arrotondare incuneandosi in area alla ricerca del tiro ma viene stoppato in estremis dal ritorno di un avversario e passiamo ora a vedere il secondo tempo il primo tentativo è di Di Curzio che parte in contropiede percorre 70 metri a tutta birra prima di essere falciato da Giampaolo che però rimedia il rosso diretto Bisegna non sfrutta il successivo calcio di punizione ma il Giulianova adesso gioca con un uovo in meno altri tre minuti e c'è un corner per l'Avezzano nell'area piccola De Santis alza troppo la mira e tutto svanisce calcio piazzato di Michele Bisegna forte ma troppo centrale e Proietti blocca senza problemi ventitresimo Di Curzio recupera palla al limite la difende e tira ma ancora una volta la sfera termina alta poi viene spulso anche straccia per doppio giallo e per il Giulianova è anche la fine di ogni speranza l'Avezzano al trentottesimo chiude definitivamente la pratica Sassarini fa tutto da solo avanzando sulla sinistra per concludere poi imparabilmente quasi dalla linea di fondo 2 a 0 e risultato in cassaforte i Marsicani potrebbero arrotondare al quarantanovesimo ma Di Curzio non è fortunato quando cerca di sfruttare l'assist di Tariuk destro rasoterra e base del palo che respinge beffardamente la conclusione dell'attaccante ma forse per il povero Giulianova la punizione sarebbe stata eccessiva Prima di arrivare in sala stampa Alessandro Lucarelli non è stata tecnicamente una grande partita ma i punti erano forse più importanti della prestazione ne sono arrivati tre e l'Avezzano si allontana dalla zona calda e si avvicina verso la salvezza Sì però è stata una partita con tante incognite perché giocare dopo 30 giorni non era semplice una partita con tanta pressione loro questo campionale dimostra che anche l'ultima in classifica può giocarsi le partite come loro se la sono giocata con la San Mettese 1-0 non ci sono partite facili non mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra che sono 1-0 in un uomo in più doveva cercare di chiudere la partita invece abbiamo concesso qualche calcio d'angolo abbiamo permesso loro di non dico di crederci però di provare a impensierirci questa cosa è una cosa che non mi è piaciuta e ragazzi glielo ho detto dobbiamo cambiare mentalità se vogliamo fare quello che vi ho detto cioè cercare di fare punti fuori casa perché poi in casa adesso con il Giulianova la prossima il veregra ma ci può stare che il calcio è imprevedibile 5-6 punti ancora alla salvezza beh sì dobbiamo cominciare da domenica perché io ve l'ho detto non voglio arrendermi all'idea che solo in casa dobbiamo fare punti perché è anche una partita sulla carta facile con il Giulianova ma non è stata assolutamente così loro tra virgolette non avevano più niente da chiedere giocavano un po' più sbarazzini noi invece tanta pressione dopo 30 giorni non sapevamo come trovarci in condizione fisica almeno e anche psichica però alla fine i tre punti sono arrivati ma di buono c'è solo quello oggi secondo me e le due espulsioni quanto hanno influito sul risultato? e beh penso tanto perché la partita è stata equilibrata anche se loro non è che hanno mai calciato in porta però la partita è stata equilibrata nel calcio non c'è più la partita che tu vinci 5-0 facile pure con l'ultima in classifica nella testimonianza proprio il Giuliano io ho fatto i complimenti pure ai ragazzi del Giuliano perché secondo me tutte le problematiche che hanno stanno comunque onorando benissimo secondo me questo campionato fra quattro giorni a Fano sì quattro giorni a Fano per cercare di fare punti almeno con la mentalità di fare punti poi una volta uno da tutto se non ce la fa dà la mano all'avversario volevo fare una dettica speciale oggi potarsi poi la ripeterà pure qualcuno però per un ragazzo di Avezzano un bambino di un anno di Samuele Baldassarre mi pare ci ha chiesto un tifoso di farci dedicare questa vittoria e noi dentro lo spogliatoio lo stiamo facendo e adesso qui lo sto rendendo pubblico Presidente Paris Lucarelli ha detto di buono i tre punti non la prestazione concordi? ma credo proprio di sì perché in campo in 90 minuti si è vista soltanto una squadra se avessimo avuto l'atteggiamento che so avuto con il Matelica oggi avremmo visto una goleata però non è stato così l'esempio è stato Lorenzo Di Curzio sempre determinato freddo negli ultimi 16 metri oggi palo e altre situazioni di incertezza che è tutta una questione mentale credo che abbia ragione lo ha detto anche negli spogliatoi quello che mi aspettavo oggi erano i tre punti e sono contento per quello ma la squadra deve dimostrarmi che se vuole far tornare il sorriso al Presidente bisogna vincere a Fano domenica prossima giochiamo contro la terza in classifica ma a questa Avezzano nulla è per obbito non è chiedere troppo? no io non ho mai giocato per un pareggio quindi anche a Fano voglio che la squadra capisca quella che è la mentalità del Presidente in sei anni ho quasi sempre vinto quindi proviamo a fare questo nelle ultime sei partite sei finali e proviamo a raggiungere qualcosa di più la salvezza è l'obiettivo dell'Avezzano Calcio mantenere la quarta sede del Calcio Italiano però sinceramente vorrei chiudere con una serie di risultati positivi che potrebbero anche cambiare l'esito della stagione di questo debutto in Serie D e mi auguro che ciò accada qualche settimana fa avevi deciso di mollare avevi messo in vendita la società si è fatto più avanti nessuna? no ma la mia non è un'intenzione di vendere io sto programmando qualcosa di prestigioso ho promesso a me stesso in primis la promozione in Lega Pro entro il centenario se arriva prima sono contento altrimenti devo cercare di concretizzare unire le forze anche con l'aiuto di eventuali soci che volessero dare un contributo all'Avezzano Calcio per fare che questo questo è l'obiettivo dell'Avezzano Calcio dobbiamo provarci io non getto neanche la possibilità che accada in questa stagione però siccome l'ho detto tante e troppe volte l'unica cosa che mi aspetto di vedere una grande prova di carattere a Fano fuori casa l'abbiamo fatto pochissime volte e speriamo che questo possa concretizzarsi fra pochissimi giorni anche perché giochiamo contro una grande squadra e noi con le squadre di alta classifica abbiamo sempre avuto un buon rendimento e spero che succeda contro il Fano Michele Gelsi una partita che non è stata ben giocata né dall'Avezzano né dal Gironova ma era l'Avezzano e doveva farla avete perso che cosa cambia per voi? cambia che c'è una partita a meno i punti rimangono sempre gli stessi perché i punti quelli dobbiamo fare oggi era una partita che potevamo far bene ma abbiamo abbiamo toppato la squadra non è stata la stessa squadra che che ha fatto prestazioni in altre circostanze era moscia senza carattere senza verve come piace a me e come piace a loro purtroppo poi ci metti anche che nell'occasione del gol sbagli e ti puniscono era una partita che poteva finire sicuramente per come era giocata una partita senza nessun tipo di occasione però è giusto quando perdi giusto dire bravi agli altri le espulsioni dovute a che cosa nervosismo o a qualcos'altro l'espulsione è dovuta a niente è dovuto che Giampaolo ha fatto un fallo quasi da ultimo uomo straccia purtroppo quando non si usa la testa già che è stato ammunito non puoi fare un fallo di ammunizione in dieci sulla linea di metà campo purtroppo sono giovani impareranno questo non ci servirà di esperienza perché non puoi lasciare la squadra in nove non ti serviva niente far farlo non è che serviva salvare un gol o niente soprattutto a centro campo bravo la vostra situazione più o meno la conosciamo tutti evolve in che moda? a noi guardi è una situazione che al di là di questo io devo fare un plauso ai miei ragazzi perché non è semplice lavorare in questo in questa situazione che siamo noi da un mese in un mese e mezzo quindi lavoriamo ci impegniamo lavoriamo tutti i giorni cerchiamo di stare più lontano da queste cose però faccio giudicare a voi non è semplice lavorare quando sai che non c'è un punto di riferimento quando sai che non c'è una società perché realmente non c'è però non vogliamo trovare nessun tipo di attenuante la sconfitta c'è stata però è una situazione per questi ragazzi qua che non sanno né cosa succede domani né quello che succede dopodomani quindi sarebbe da dargli una certezza o nel bene o nel male però in questo momento qua non c'è dobbiamo subito dimenticare Avezzano perché domenica abbiamo un'altra partita col Chieti e finché c'è vita noi ce la giochiamo e il servizio di sport termina questa edizione del giornale prima di salutino come sempre vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antena2tv.it tra le altre cose è possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antenado ha realizzato nel corso degli ultimi anni dunque grazie per averci seguito anche oggi e rivederci grazie